Sì, allora oggi andiamo a preparare una polpettina di tonno patata lessa con basilico, un po' di sale, un po' di pepe, andiamo a impastare tutto bene con le mani, mancaviamo tutto, e dopo ci andiamo ad inserire anche un ovetto, e dopo ci andiamo a fare le polpettine. Adesso andiamo a vedere come preparare le polpettine che facciamo passare nell'uovo, e poi andiamo a friggere. È una bontà per i bambini soprattutto, ma anche per i grandi. Andiamo a preparare le polpettine, andiamo a preparare le polpettine, andiamo a preparare le polpettine, e poi andiamo a preparare le polpettine. Poi ragazzi le polpettine, eccomi, le polpettine sono pronte, scusate ma sto riprendendo con il telefono, e poi andiamo a preparare le polpettine. Eccole qui. Allora ripetitodiamo, patate, tombe, basilico, sale, pepe, un pochino di uovo, passate, poi pangrattato, uovo pangrattato, e fritto. Andiamo ad assaggiare? Un sapore stupendo, tonno, patate, pur fuori sta divulgando, non so se sentite, basilico, buonissima. Eccezionale, eccezionale, provatela, iscrivetevi al canale, spiegiamo al prossimo ricetto. Un saluto da tutti, ciao!